Musica Buonasera e buona domenica. La fortezza di Palmanova è stata iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO nell'insieme delle opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo. Stato di terra, Stato di mare occidentale. Un sito transnazionale presentato nel 2016 dall'Italia insieme con Croazia e Montenegro all'UNESCO a Parigi. La candidatura e il risultato di un lungo e complesso lavoro di equipe coordinata a livello centrale dal MIBACT ha visto la partecipazione di studiosi, le più alte cariche istituzionali e dei servizi tecnici dei comuni coinvolti. Il 9 luglio del 2017 è una data importante per Palmanova, la cui fortezza è stata iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quelle della città stellata insieme alle altre italiane, di Bergamo, Peschiera del Garda, delle croate Zare, Sebenico e del Montenegro, Cattaro sono entrate a far parte del sito transnazionale delle opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo, Stato di terra, Stato di mare occidentale. La proclamazione è venuta a Cracovia con la partecipazione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO, tutti i protagonisti del progetto di candidatura, il MIBACT, i sindaci dei comuni coinvolti, accompagnati da esperti e tecnici che hanno partecipato al lungo lavoro iniziato fin dal 2008. Il successo, spiega il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, è il risultato di un lungo e complesso lavoro d'equipe e entrare a far parte dei beni considerati patrimonio mondiale dell'umanità e riconoscere valori inestimabili alla cultura, alla storia della città stellata e affidarle al contempo il ruolo di portatrice dei valori universali dell'UNESCO, pace, solidarietà e giustizia. Da oggi dunque gli amministratori di Palmanova hanno una responsabilità di più verso questa città, detta ancora Martinez, per conservarla e valorizzarla come merita. Ora la regione è pronta a tornare al lavoro, commenta dal canto suo la presidente Deborah Serracchiani, per dare ali alla valorizzazione del cluster delle città UNESCO, consapevole di essere l'unica regione italiana a poter vantare tre perle, come Aquileia, Cividale e Palmanova, in pochi chilometri che abbracciano 2000 anni di storia. Passiamo alla cronaca, un incendio partito da una canna fumaria distrugge una casera sopra Moggio, salvi i quattro escursionisti che stavano dormendo nella struttura. A fuoco la casera Pais di Luisse, di proprietà del comune di Moggio, nelle Alpi Carniche orientali. A lanciare l'allarme intorno alle due sono stati quattro escursionisti che avevano deciso di trascorrere la notte scorsa nella casera, che si trova a quota 1482 metri. Dopo il temporale che si era abbattuto in zona, i quattro, tutti i 32 anni provenienti dalla provincia di Venezia, hanno acceso il cammino presente all'interno della casera. Mentre dormivano, uno di loro s'accorto che le fiamme, dopo aver incendiato la canna fumaria, si stavano allargando all'intera struttura. Sono riusciti a raccogliere tutto il materiale che avevano portato con sé e a mettersi in salvo prima che il fuoco invadesse tutta la casera. I primi a essere contattati sono stati i vigili del fuoco che hanno chiesto alla collaborazione del Corpo del Soccorso Alpino e Speleologico di Moggio per riuscire a raggiungere e individuare più velocemente la zona. I giovani, due di Caorle e due di Sanstino di Livenza, sono stati raggiunti e accompagnati a Valle. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Pontebbe e di Moggio che sono riuscite a individuare due bombole di GPL presenti all'interno della struttura e a metterle in sicurezza affinché non esplodessero. Per evitare che le fiamme si propagassero al bosco circostante, questa mattina è stato necessario un intervento dell'elicottero della Protezione Civile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chiusaforte e la Guardia Forestale di Moggio. Sarà una mozione di sentimenti sottoposta al Consiglio Comunale a sancire la posizione contraria del Comune di Udine al CETA, il Trattato di Libero Scambio tra Canada e Unione Europea, supportando la campagna del Comitato Stop TTP-CETA contro l'Accordo. La Giunta Comunale ha infatti approvato la delibera che impegna il Sindaco a contrastare in ogni sede e luogo istituzionale l'accelerazione della procedura d'approvazione, così come la ratifica finale del Trattato, nonché a ribardire nelle apposite sedi il diritto delle Regioni di poter essere interpellate sulle questioni riguardanti gli impatti dell'approvazione dei trattati di libero scambio. La Giunta regionale, su proposta dall'Assessore alle Infrastrutture e Territorio Maria Grazia Santoro, ha approvato in via preliminare il regolamento per il sostegno alle iniziative di autorecupero di coabitare sociale e forme innovative. Si apre in questo modo la possibilità di finanziamento a quelle tipologie di intervento che si distinguono per intercettare con modelli diversi le mutate esigenze abitative di alcune fasce della popolazione. Dopo Torre a Pordenone è arrivato anche nella circoscrizione Rorai-Cappuccini, il punto Servizi Comunali Decentrati inaugurato recentemente si trova in via Pontini a 3 nell'area delle case popolari di Rorai Grande. Tanti i servizi per i residenti dall'anagrafe al vigile di quartiere, dall'assistente sociale alle pratiche burocratiche. Era un impegno preso in campagna elettorale e poi sottoscritto anche nel programma quello di controllare qual è la residenza nei quartieri. La gente viene in centro per altre cose ma sono i quartieri più popolati. Magari con persone anziane, con difficoltà di ambulazione. Portiamo qui una serie di servizi del comune non solo, dall'anagrafe al assistente sociale alle vigili di quartiere alle pratiche previdenziali con il patronato all'assistente sociale per consentire di avere un pannello di servizi per far sentire i quartieri parte integrante della città e non invece periferie. Qual è l'importanza di avere dei servizi così vicini per voi cittadini? È molto importante perché non ci sentiamo più soli. ci stanno preoccupando per i nostri problemi ed è molto importante e anche perché mandano se c'è qualcuno che così ci hanno promesso se c'è qualcuno che che è in difficoltà a fare delle carte sono a disposizione. Ho visto la grandezza di questo quartiere e che è necessario avere questi servizi l'importante è che funzioni. Qui a Rai vi siete sentiti trascurati in passato? Sì, qua sì. Sento le persone che dicono qua siamo trascurati. Anche un maggior controllo del territorio con il poliziotto di quartiere? Perché con le ultime famiglie nuove che ci sono tanti bambini io ho anche mio figlio che abita qui e purtroppo io tante volte vengo e anche sgrido questi bambini perché corrono in mezzo alla strada vanno da destra a sinistra non rispettano gli orari perché all'una le famiglie non ci sono, li mandano giù. E' avvolta dal mistero la mancata ricezione da parte del comune di Pasia di Prato di una lettera inviata da imprenditori armeni che intendono realizzare con fondi propri alcuni milioni di euro un centro culturale di dimensione europea. E' un mistero di questa famosa lettera come giustamente diceva le 17 di maggio sono stato di persona in comune a verificare se era stato protocollata questa missiva e risulta che non sia mai pervenuto questa missiva che sono alcuni imprenditori armeni che vorrebbero fare questo investimento per un centro culturale a livello europeo di armeni qua in Friuli, Venezia e Giulia e niente c'è stranezza di questa roba qua insomma alla fine adesso vediamo hanno rinviato la missiva è un intervento di diversi milioni di euro per cui sarà un fiore all'occhiello se si compie se va a buon fine il discorso un fiore all'occhiello anche per la collettività di Pasian di Prato gli armeni a distanza di anni si sentono ancora perseguitati sì ma noi non vorremmo solo parlare sul genocidio per l'amor della verità anche perché le nostre iniziative sono quelle di guardare il futuro c'è adesso un'iniziativa che va a buon fine sul gemellaggio con la facoltà di architettura dell'università di Udine pensiamo che degli studenti dall'Armenia verranno qui a Udine per gli studi da farsi e poi c'è questa possibilità di poter fare anche il riconoscimento della laurea conseguito in Armenia e viceversa qua conseguito dagli armeni in Italia che ci sia riconoscimento da parte degli entrambi gli stati la ciclovia Alpeadria è conosciuta in tutta Europa peccato manchi ancora una piccola parte per completarla a lanciare la richiesta che quest'ultimo tassello si aggiunga a un tracciato che attraversa zone di particolare pregio ambientale è la presidente della FIAB nazionale Giulietta Pagliaccio che in questi giorni insieme a un gruppo di ciclamatori provenienti dalla Lombardia sta attraversando proprio la nostra regione Personalmente è stata una scoperta molto piacevole perché il Friuli lo conoscevo purtroppo per altre questioni il ricordo torna al terremoto di tanti anni fa e devo dire che in questi anni il Friuli ha lavorato molto anche per sviluppare quello che è il cicloturismo che è un elemento veramente essenziale per poter dare un'economia diversa ai territori va da sé che poi l'Alpe Adria che è la ciclovia che stiamo facendo noi ha un nome un nome in giro per l'Europa e anche quello ha fatto molto la differenza e quello ci ha un po' spinto ad andare a vedere la ciclabile più bella d'Europa che però ha delle pecche assolutamente ancora dei tratti chiusi ho scoperto un pezzo di tracciato ferroviario ancora da acquistare da RFI e quindi insomma delle cose da fare sicuramente ci sono e io invito le amministrazioni locali a partire dalla regione in giù a completare questo percorso che è sicuramente meraviglioso ma soprattutto è un elemento forte per l'economia locale abbiamo voluto approfittare del passaggio di questo gruppo di ciclisti lombardi guidati dalla Presidente Nazionale della Federazione anche per accendere un po' i riflettori su quello che è la situazione della ciclabilità nella nostra città che sicuramente ha fatto dei grandi passi avanti negli ultimi anni noi adesso proseguiremo con il gruppo li porteremo proprio in piazza 20 Settembre al centro di quel piccolo quadrilatero composto da via Poscolle via Canciani piazza 20 Settembre via Cesare Battisti dove la bellissima ciclovia Alpe Adria si interrompe purtroppo con un cartello bici a mano si chiama Simone Pavoni è il vincitore della selezione regionale della gara più piccante dell'anno dedicata ai mangiatori di peperoncino la competizione si è svolta in via di Aza Udi nel sede dell'Accademia del peperoncino che è legata alle attività della Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha visto sette partecipanti provenienti da tutta la regione largo ai giovani è stato detto dagli organizzatori che per l'edizione del 2017 hanno preferito evitare la partecipazione dei veterani come il campione italiano maiolino che lo scorso hanno riuscito a mangiare 900 grammi di peperoncino alle finali nazionali di Diamante il campione del 2017 è riuscito a mangiare oltre 500 grammi di peperoncino accompagnandolo esclusivamente a pane e all'olio la schiera dei curiosi aumenta di anno in anno sostengono gli organizzatori ma è sempre più difficile trovare chi ha il coraggio di sottoporre il palato a una prova davvero piccante Cortemorpurgo e il piazzale del castello a Udine si confermano location preferenziali per i concerti di Udine Jazz ecco la cronaca di questi momenti di cultura seguiti da Ivano Mattiussi prosegue con esiti lusinghieri Udine Jazz l'edizione numero 27 del Festival Internazionale sulla musica di improvvisazione in programma sino al 13 luglio a cura dell'associazione Euritmica gli ultimi eventi in cronaca riguardano il duo Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al contrabbasso interpreti a corte di Palazzo Morpurgo di Leggera il nuovo album di musica nuda composto da brani inediti e cantati per la prima volta in italiano mentre Piazzale del Castello ha ospitato Fixed for Freedom concerto di brani inediti dedicati al grande campione dei pesi massimi e figura di spicco della storia del novecento Mohammed Ali che costituiscono la colonna sonora del film Da Clay ad Ali La Metamorfosi diretto da Emanuele Audisio Petra Magoni e Ferruccio Spinetti sono ritornati in scena dopo il successo di Little Wonder disco che dallo scorso marzo stanno portando in tournée internazionale che comprenderà anche Francia e Stati Uniti Il loro nuovo album di musica nuda tratta la leggerezza nel senso più calviniano del termine inteso cioè non come superficialità ma planando le cose dall'alto e non avere macigni sul cuore Remo Anzovino compositore e pianista fra i più refinati e visionari della nuova scena contemporanea Eroi Paci cantautore trombettista e produttore discografico sono i coautori del progetto dedicato a Mohammed Ali 12 i brani inediti del concerto con proiezioni del film documentario sul pugile statunitense eseguiti in band formata dai coautori del progetto rispettivamente al pianoforte e tromba Fito Scavo al trombone John Louis alle chitarre Pino Saracini al basso Emilio Johnson alla batteria e percussioni E con questo è tutto grazie per averci seguito a tutti buon proseguimento di serata con i programmi di Telefriuli ancora buona domenica arrivederci a tutti